In occasione della prima giornata europea della musicoterapia, la cooperativa sociali Il Faggio ha organizzato presso la struttura Borea di Sanremo un'apposita giornata gratuita di formazione. La cooperativa ha infatti inserito l'attività di musicoterapia nelle strutture di San Secondo a Ventimiglia, Borea a Sanremo e Casa Milio a Perinaldo, riconoscendo l'importanza della musica come mezzo per aprire canali di relazione. Presidente, com'è nata l'idea di organizzare questa giornata? Questa giornata, di cui io sono molto soddisfatta, perché tra l'altro ci sono più di 100 iscritti, è nata perché la musicoterapia è sempre più richiesta, sia dai parenti dei pazienti che seguiamo, sia dai pazienti stessi. C'è un'ottima richiesta su Imperia, su Sanremo, dove siamo oggi, ma anche su Savona, in quanto proprio la musicoterapia è un'arte, è un modo di comunicare non verbale che funziona molto bene. E che troverà spazio in tutte le vostre strutture, non solo qui a Sanremo? Assolutamente sì, l'ha già trovato, in effetti poi io ho già chiesto a questi ottimi relatori che poi mi succederanno nell'intervista, di organizzare magari in primavera un altro convegno anche nel Savonese. Entriamo allora all'interno dell'argomento della musicoterapia. Quali benefici può dare? La musicoterapia è un'arte espressiva, come appunto tante altre, che può essere applicata su diversi tipi di patologie, sia nella prima infanzia fino alla terza età. In particolare la giornata di oggi è focalizzata sulla terza età, appunto proprio perché ci troviamo in una struttura che ospita pazienti in questa fascia di ciclo di vita. Le benefici principali sono gli effetti sul comportamento, quindi su tutte quelle persone che hanno difficoltà a integrarsi e a abituarsi alle regole dell'istituzione, serve proprio per aiutarli a trovare uno spazio di espressione. Serve per trovare uno spazio di espressione alla propria ansia, quindi siamo legati ad una fascia di età dove in genere l'ansia è in aumento. Quindi attraverso la musica, attraverso il suono, si riesce appunto a dare espressione a questi loro stati d'animo. Serve per dare momenti di benessere, momenti di gioia, momenti di condivisione con i propri compagni. Infatti vengono organizzati non solo trattamenti individuali, ma anche gruppi musica, io li chiamo gruppi musica, dove i pazienti cantano, ballano se riescono e suonano, producono attraverso strumenti i loro suoni. Quindi insomma c'è una fase di ascolto ma anche una fase attiva. Allora la musicoterapia si avvale proprio di questi due strumenti, sia dell'ascolto di musica registrata o prodotta in vivo, oppure della produzione da parte dei pazienti stessi attraverso dei piccoli strumenti, piccoli strumenti che si intende di piccoli metallofoni, dei piccoli xilofoni, delle percussioni come tamburelli, maracas, piccoli sonagli. Ovviamente gli strumenti vengono adeguati alla fascia di età e alle potenzialità muscolari anche. Ovvio che per la terza età si sceglieranno strumenti molto piccoli, facilmente gestibili. Comunque sì, c'è una fase di ascolto e una fase proprio di produzione sonora. Parliamo allora in particolare della terza età, che è la fascia che ci interessa qui oggi. Quali sono in particolare i benefici per questa tipologia di persone? Allora, la musicoterapia è bene applicarla, è cosa veramente buona e gradita dagli anziani, in quanto innanzitutto si pone come un luogo, uno spazio non necessariamente solo fisico, in senso ampio, dove poter agire con la reminescenza in maniera non difficoltosa. Cioè ha degli obiettivi molto semplici, anche gratificanti, quindi a questa facilità si unisce il divertimento. Quindi persone che non sono, sono appesantite dall'età, ma soprattutto sono appesantite da delle patologie particolarmente invalidanti, come possono essere tutta una serie di demenze, in primis l'Alzheimer, ma non solo. Si può tornare bambini senza sentirsi necessariamente bambini. Quindi ricordare e narrare, quindi il canto e la narrazione riescono a far star meglio l'ospite, il paziente, senza necessariamente sentirsi obbligato, indotto. Quindi è un luogo tranquillo, sicuro, dove ritornare a essere se stessi in piena tranquillità, senza l'obbligo di dover fare necessariamente qualcosa, produrre qualcosa. Quindi la musicoterapia è un modo per tornare a ricostruire quello che viene chiamato il paesaggio sonoro della persona. Ognuno di noi viene da un vissuto che è fatto di suoni, di emozioni, di storie, che possono rivivere attraverso la musica. In primis il canto, che fa un po' da specchio per la nostra identità, la nostra personalità. La narrazione va ad agire proprio come rinforzo, come a dire esisto anch'io, ci sono anch'io, e quindi vivo, e quindi sono ancora. Perché, come ripeto, come dicevo, questo tipo di patologie sono estremamente invalidanti. Si rischia e si incontra il pericolo proprio di perdersi completamente, perdendo grandi pezzi di memoria, anche quasi totalmente, non sapere più chi si è, da dove si viene, e chi sono le persone che con noi sono state sempre vicine, ai nostri cari. Quindi la musicoterapia agisce come, non solo come contenitore sicuro, ma anche come cura. Una cura che va a rassicurare, a rinforzare la propria identità. E quindi è una manna, diciamo così. Le esperienze del passato hanno già dato frutti importanti. Sì, sicuramente, sono proprio evidenti i cambiamenti anche al momento del benessere psicofisico che si raggiunge quando si riesce ad aprire quel canale, ripeto, che fa uso proprio della riminescenza, quel canale privilegiato che può avvenire solo attraverso il suono, perché il suono è come una prescatole, un mezzo intermediario, quindi, ripeto, non è il fine. Non c'è il bisogno di produrre qualcosa. Il suono è come qualcosa di, una sorta di salto, un teletrasporto. Quindi se la comunicazione la immaginiamo come l'autostrada, il suono, la musica agita è veramente qualcosa di estremamente ancora più potente, che in un attimo ci porta indietro, ma con benessere, perché spesso, quasi sempre, il ritorno indietro è legato a una canzone, anche solo una frase, anche solo un motivetto, che magari viene ripetuto tantissime volte, tutte quelle volte che il musicoterapeuta e il paziente ritornano ad agganciarsi, a trovarsi, quindi si instaura quel ponte di comunicazione e magari quella canzoncina è un luogo in cui ritrovarsi. Quindi viene a, come dire, essere un luogo privilegiato, un luogo sicuro, una stanza confortevole, un nuovo luogo ma che in realtà ripercorre uno spazio, è un luogo già vissuto, perché appartiene alla memoria di quella persona e che è unica, ovviamente, perché è tipica di quella persona. Faccio un esempio, magari si ricorda una canzone nota anche ad altri, di quella classe, di quel periodo storico, ma i modi con cui si ricorda, con cui viene cantata, diciamo, i parametri musicali possono cambiare, anzi, cambiano. Quindi, diciamo, la bellezza anche di fare musicoterapia sta proprio nell'esercitare quella capacità di adattarsi a quello che è il rimando, cioè modificare via via sia la tecnica che le modalità tutte che vengono esercitate, quindi cercare di far stare a proprio agio il paziente, l'ospite, dandogli dei rimandi che sono frutto di quello che viene dato, ecco, viene raccontato. Anche la narrazione, ripeto, è un esercizio musicale, nel senso che ognuno ha timbri, ha modalità, ritmi, che sono proprio dei parametri musicali, ma il sunto, il racconto, l'essenza, diciamo, è la vita di quella persona, quindi è unica. Parlando di musicoterapia parliamo di arti espressive, insomma, modo di esprimersi da parte delle persone. Sì, la musicoterapia fa parte della grande famiglia delle terapie espressive ed è proprio qua oggi, in questa conferenza, che abbiamo cercato di dare un'immagine della complessità e della ricchezza di questi dispositivi e di quanto possono essere utili per fornire una modalità che non passa dalla parola, quindi nella quale non viene utilizzato il linguaggio, la parola e l'intelletto, ma attraverso altri canali percettivi, come il corpo, le immagini e tutti i sensi che animano una persona per poter, in qualche modo, accompagnarla ad un'esperienza fondamentale di sé e poi anche, idealmente, una possibile trasformazione per quelli che possono essere le sue problematiche, disagi, sofferenze. Quindi, insomma, degli strumenti che si stanno sviluppando sempre di più per tirare fuori qualcosa dalle persone. Sì, sono degli strumenti molto utili. Sono degli strumenti che possono anche essere integrati e integrabili tra di loro, nel senso che si può utilizzare la musicoterapia e insieme anche la pet therapy, cioè l'utilizzo degli animali da compagnia. Quindi diversi dispositivi delle stesse terapie espressive possono essere integrate. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS